rispetto a queste rivelazioni? Ma ogni tanto qualcuno in America rivela segreti che riguardano la politica italiana, ovviamente curiosità rispetto a queste rivelazioni, vediamo Brunetta che cosa depositerà e quali sono i contenuti di questa richiesta, sicuramente bisogna far luce sulla verità a chiunque riguardi, soprattutto quando riguarda una persona che è stata eletta allora da tanti italiani che vorranno sicuramente sapere che cosa è accaduto in questi anni. Grazie.